Oltre all'epidemia del Covid, come io dico che rispetto, l'epidemia sulle vittime della strada sta aumentando sempre di più. Dobbiamo in qualche modo arrivare a chi è dall'alto, che è il governo, e che metta dei fondi o che insieme possa collaborare per aiutare ad evitare altre stragi sulle strade. Spero che questo sia un messaggio istituzionale che arrivi direttamente al Consiglio dei Ministri, direttamente al Premier. Si sono trovati entrambi a Venezia, a Palazzo Balbi, per lanciare un messaggio potente. Romina Ceccato e Andrea Dan, genitori combattenti. La prima, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei quattro angeli morti nel terribile incidente stradale nel luglio 2019 a Jesolo. Il secondo, papà di Manuela, strappata la vita a sei anni nel 1998 a Codogne. Una traiettoria di dolore è diventata una battaglia per la sicurezza sulle strade. I numeri d'altronde tracciano un'emergenza senza fine. In quest'anno, nella marca trevigiana, con 900.000 abitanti, abbiamo 17 vittime sul lavoro e quasi 60 morti sulla strada. Danne Ceccato, approfittando della conferenza stampa di fine anno del Presidente Zaia, hanno chiesto alla Regione, in particolare all'assessore ai trasporti Elisa De Berti, che hanno incontrato, di intercedere con il governo per accelerare un vero piano di sicurezza per la strada, fatto di infrastrutture ma anche di una campagna di informazione diffusa, perché nessun genitore, né chiunque altro, si trovi a passare un Natale come il loro. La vita non ce l'hai più. Devi incominciare a ricostruirne una nuova per poter sopravvivere e andare avanti. Questi giorni vorrei che non esistessero, ma in questo momento il regalo più bello è essere qui nel dire che cosa vogliamo.